Sì, fatto, fatto. Tuveri Matteo, tuaduno, forse il resto down, categoria intermedite. Dumb del 22,5. Allora, quando se lo so? Un lento. Ok. C'è 30, 30, 525, 400. Fai vedere? Ti devo far vedere? Ah, non mi lascia. Ok. Quando vuoi io premo, se no aspetto. Premo? Sì. Due. Uno. Due. Due. Grazie a tutti. 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 Otto. Grazie a tutti. 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 Il sottofondo che è il sottofondo che ci ha accompagnato per tutto il video. 10 minuti.